Vediamo che succederà. Vi faccio vedere, vi porto in Tunisia, perché lì c'è stato il nostro Luca Rosini, è diventato il paradiso dei pensionati, perché lì le tasse, pensate un po', sono al 5%. Possiamo anche attaccarci il minispot, il servizio è molto bello, guardatevelo. Raffaello e sua moglie Fiorenza vivono ad Amamet da due anni. Però già fissandosi, non la data del rientro, ma che saremmo rientrati, perché è bellissimo passarci del tempo, ma gli affetti rimangono comunque in Italia. Voglio tornare perché io sono italiana e ambisco ad andare a abitare a Padova, la mia città.